Buonasera a tutti e ben trovata a Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle. Buonasera, buonasera a tutti. Voi avete già bollato il DEF, il documento di economia e finanza, come un libro dei sogni fatto solo di annunci. Il motivo? In realtà questo DEF analizza la situazione come se si uscisse dalla fase recessiva in via definitiva, mentre invece già la Commissione europea ha bollato questa recessione come a forma di W. Quindi c'è un alleggerimento della recessione ma poi successivamente la recessione tornerà a farsi sentire. Per cui non è vero che è un'uscita definitiva come invece il DEF sembra profilare. È in continuità peraltro con quello che abbiamo visto essere quello dei governi precedenti, in particolare mi riferisco anche a quello di Monti che poi ha dovuto rivedere tutti i parametri. Per questo ci sembra un libro dei sogni. Sul banco degli imputati mettete le risorse che valutate incerte e insufficienti. Perché? Guardi, ci sono alcune coperture che veramente sono allo sbaraglio. Parlo dell'extragettito. Da un lato IVA derivante appunto dai crediti che le pubbliche amministrazioni dovrebbero finalmente liquidare alle imprese. Là già si ipoteca l'extragettito IVA laddove invece le imprese, alcune di loro, prenderanno quelli crediti proprio per sopravvivere, per continuare a stare sul mercato. Quindi difficilmente tradurranno quella liquidità in acquisto subito di beni e servizi. E poi c'è la grande incognita della copertura, sempre derivante dall'aumento dell'aliquota per la rivalutazione delle quote che appunto è avvenuta in capo alle banche private, le quote di Banca Italia. Quindi quello che noi abbiamo giustamente definito un regalo di 7 miliardi e mezzo che è stato fatto alle banche private ai danni dei cittadini. Intanto in attesa del Sì delle Camere il DEF è stato già trasmesso a Bruxelles. Noto che l'Europa ci chiede il risanamento dei conti pubblici e le riforme. Come andrebbe migliorato il documento secondo il Movimento 5 Stelle per essere più convincente? Attraverso un accesso al credito immediato a tassi agevolati soprattutto per le piccole e medie imprese. La liquidità deve subito arrivare come l'acqua in un terreno arido ai tessuti produttivi dell'economia italiana. Quindi piccole e medie imprese e non come avviene ora che il credito è garantito a tassi inferiori alle grandi imprese e a tassi addirittura molto superiori appunto alle piccole e medie imprese. Un'ultima domanda in maniera telegrafica. Una proposta del Movimento 5 Stelle che il Movimento considera inderogabile a cui non potete rinunciare. L'alleggerimento della tassazione. Assolutamente la tassazione deve essere alleggerita all'abolizione dell'IRAP. Volevamo scongiurare l'aumento della tassi che invece è passato con il decreto legge antilocali. Quindi alleggerire assolutamente il carico fiscale. Grazie a Carla Ruoco, deputata del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi tutti.